Musica Nuova edizione del premio Crotone OK, Antonio. Eccoci arrivati a un altro anno, a un altro anno, a un altro appuntamento. Il premio OK nasce nel 2011 da un progetto editoriale mio e dalla mia redazione volto a evidenziare gli aspetti positivi del nostro territorio ma soprattutto volto a raccontare ciò che si è parlato a livello nazionale di Crotone e provincia. Naturalmente, quotidianamente, sentiamo di aspetti negativi del nostro territorio e spinti da questo, io e la mia redazione abbiamo deciso spinti anche dal fatto che vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno abbiamo deciso di raccontare e soprattutto premiare le positività che ci sono e sono tante. Sì, è vero. Oggi è una scelta molto particolare perché ad esempio parliamo di Giovanni Pugliese dell'Istituto Sant'Anna ma parliamo anche della sorgente delle arti per quanto riguarda il mondo della cultura e dell'arte parliamo dell'atleta crotonese e insomma parliamo di gente che dà un'immagine bella della nostra terra. Certo, quest'anno come sempre i premi sono tre. Hai nominato la sorgente delle arti. Questo è legato, quest'anno è stato dato il premio messaggio OK a questi ragazzi per lanciare questo messaggio, un messaggio a tutti i giovani grazie a loro che hanno coltivato i loro sogni nel nostro territorio il messaggio è quello verso tutti gli altri giovani che partono ogni giorno, ogni anno per dire che nel nostro territorio si può fare, si può fare impresa si possono realizzare i propri sogni e le proprie professionalità. Poi abbiamo Ayoub Idam, è stato dato il premio sportivo che è legato alla nostra testata il rosso-blu, oltretutto un premio per ricordare Peppino Messinetti il nostro grande giornalista crotonese. Ayoub quest'anno ha avuto un grandissimo riconoscimento vincendo i campionati nazionali Juniores e per la nostra città credo che sia un grandissimo traguardo. Anche per mettere in evidenza che siamo una città accogliente? Principalmente, brava, sì principalmente. E poi il personaggio OK 2019 è stato dato al dottor Giovanni Pugliese dell'istituto amministratore delegato dell'istituto Sant'Anna oltre ai loro successi che di anno in anno portano avanti quest'anno hanno organizzato un evento internazionale portando a Crotone illustri menti da tutto il mondo facendo parlare su delle più grandi riviste medico-scientifico della nostra città. Possiamo dire che in realtà di positivo c'è tanto a Crotone e non si può essere sempre quelli che guardano gli altri convinti che ci siano solo le negatività, non c'è solo cronaca. Assolutamente no, noi ogni anno pensiamo se ci riusciamo a tirare fuori queste positività e ci accorgiamo a fine anno, tu pensa che quest'anno siano riusciti a tirare fuori 48 personaggi che sono riusciti a far parlare di Crotone in qualsiasi parte d'Italia e per noi poi diventa difficile scegliere il personaggio ok. Naturalmente questo va sottolineato, il premio viene sempre dato a chi fa parlare di più del nostro territorio di Crotone e provincia. E questo è il messaggio che la nostra testata è quello che tentiamo di lanciare ogni anno. Tentiamo tutti insieme di guardare questo bicchiere mezzo pieno perché questa è una città che dà, può dare, può crescere ma se stiamo uniti, se stiamo tutti insieme. Premio di Crotone ok a Giovanni Pugliesi, è uomo dell'anno. Una grande sorpresa e ne sono molto contento, orgoglioso ma più che orgoglioso proprio contento. Io lo dirò dopo la presentazione, se me ne daranno possibilità che sono contento come un bambino. Quando qualcuno gli dice stai facendo bene, bravo, vai avanti. Ecco, io mi sento con quello stato d'animo. E questo premio, che è un premio dato a tutta la struttura e non solamente a Giovanni Pugliesi, mi piace molto. Anche perché l'impegno della famiglia pugliese ma di tutta la struttura nell'ambito sanitario è un impegno serio, un impegno che guarda al cittadino con grande attenzione e offre qualità e professionalità? Intanto è un impegno che viene da lontano. Non posso non menzionare i miei genitori che hanno fondato una scuola, quindi profondamente nel sociale. E nel sociale è vicino ai più deboli, ai ragazzini disadattati. E poi questa cosa si è trasformata in una cosa diversa, in una cosa sanitaria. Probabilmente seguendo l'età di Annarella, voglio pensare io. E ora è diventata una struttura certamente di livello regionale. E il merito certamente è delle idee che si riescono a mettere in campo della strategia sanitaria. Ma certamente senza le 250 persone che lavorano con noi questo non sarebbe possibile. E io le posso assicurare che in un gruppo così grosso di persone che è con noi da 25-30 anni certamente ci sono dei cervelli incredibilmente belli, grandi che funzionano in una maniera... Lei diceva da 25-30 anni che lavorano con lei ma dobbiamo dire che questa è anche la sicurezza di un posto di lavoro proprio perché la qualità, la professionalità è in crescita all'interno della struttura. Io le posso dire che non abbiamo mai ritardato un mese a retribuire i nostri collaboratori a retribuire il brutto a dare quello che meritano. Certo, lavorare per strutture che fanno un lavoro riconosciuto e fanno un lavoro importante è certamente più vantaggioso che non lavorare in una struttura dove si campa la giornata. E probabilmente insieme alla professionalità che io dico che c'è e lo dico in maniera forte certamente penso ci sia anche la fortuna la fortuna degli incontri con le persone parlo di scienziati naturalmente di persone che ti hanno avviato sulla strada giusta di persone che ci sono state a fianco di persone che ci sono a fianco oggi e questo è il caso o probabilmente anche l'attrazione reciproca che fa avvenire e questo con noi è successo. La sorgente delle arti è quest'anno premiata con il premio di Crotone OK? Premio Messaggio OK quest'anno ci hanno fatto questa bellissima sorpresa mi hanno chiamato una mattina dicendomi se avevo da fare verso la fine di gennaio e i primi di febbraio perché avevano deciso tutta quanta la redazione di darci questo premio davvero speciale. Un premio speciale che mette in evidenza quanta voglia di cultura c'è nella nostra terra e come questa cultura attraverso le attività dei giovani cresce. E soprattutto un premio speciale perché a parte tutto questo mette in evidenza la bellezza del lavoro umano perché quello che facciamo noi nella sorgente delle arti non è solo un lavoro tecnico non siamo solo lì a fornire delle nozioni tecniche ai ragazzi per diventare attori, cantanti, ballerini e quant'altro sebbene nel corso del tempo siano usciti fuori dei talenti molto in gamba che stanno in giro adesso anche uno sta tornando dall'Olanda perché è stato nella produzione di Wipi Rocchio ma forniamo loro gli strumenti per, si spera, diventare esseri umani decisamente degni della loro personalità della loro storia e cerchiamo attraverso quella di far vivere loro la miglior situazione possibile. C'è soddisfazione per questo premio? Ah, la soddisfazione è grandissima è sempre bello quando qualcuno si accorge del lavoro che fai Carmen, puntualmente ogni anno ci ritroviamo per il premio Messinetti all'interno del premio Crotone OK e oggi parlando con Antonio che cosa ricordi tu di Peppino Messinetti? Io ho dei ricordi molto belli che sono ricordi quando lui veniva in redazione come trattava lo sport un grande uomo che ha lasciato un bel segnale a Crotone Questo è vero ed infatti partecipiamo ogni volta con gioia a questo appuntamento che si rinnova e nel rinnovarsi si rinnova il ricordo di papà come uomo, come professionista come grande tifoso di ogni sport e quindi è una bella occasione Lui si arrabbiava tanto quando magari perdeva il Crotone o in qualche sport il Crotone non era vincente ma quando vinceva qualche squadra era qualcosa del Crotone lui era in festa Ma perché credo fosse un tratto caratteristico e distintivo della sua persona e di tutte le persone passionali ed in fondo è anche la passione la dedizione il trasporto nei confronti delle cose dei valori che anima probabilmente questo evento e quindi è bello partecipare ed è bello essere presenti Oggi il premio per lo sport viene dato a un ragazzo che è campione nazionale juniores e anche questo è un bel segnale? È anche un bel segnale e permettetemi di dire è un segnale che travalica i confini e che quindi rende evidente come attraverso lo sport attraverso la condivisione si possa essere uniti al di là delle distinzioni e delle nazionalità Crotone è una città accogliente Crotone è una città accogliente con tante contraddizioni ma certamente dà prova di poter essere e di essere una grande città Tu sei campione italiano juniores Allievo, junior secondo anno e junior primo anno Insomma sei un campione nato Piano piano diciamo Allora parliamo di questo premio sei contento? Molto contento soprattutto come avevo detto nelle altre intervie sono contento di ritornare a Crotone nella mia città ovviamente correre per i colori della mia città non c'è cosa bella di essere premiato soprattutto di nuovo di ritornare sempre nella mia città di essere premiato E quando sei premiato fuori dalla tua città ti senti orgoglioso di essere un crotonese? Sempre, sempre sempre l'ho sempre detto e lo ripeto sempre Quindi Crotone è nel tuo cuore? Sempre Senti, dove ti alleni? Beh diciamo varia dal tempo a volte mi alleno a Papanice a volte a Farina a volte alla Villa Comunale e diciamo più delle volte mi alleno alla pista di Villaggiose E comunque questo premio Messinetti che viene consegnato a te è un bel premio perché tra l'altro Peppino Messinetti era un giornalista sportivo molto importante Non ho sentito parlare non posso essere più che felice di stare qua Grazie a tutti Grazie a tutti.